La lingua che abbiamo imparato noi è la tecnologia del mondo. Aspetta, in questo mondo c'è due cose. C'è quello che cambia e quello che non cambia mica. Quello che cambia solo. L'armaccio, le carrette... No, lasciami compiare, faccio piacere, lasciami compiare. Ma è importante che tu venirei. E beh, lasciami dire. C'è due cose. La lingua traduce una realtà. Una realtà sugiale e una realtà che ha una vita più lunga. Che è la realtà di un luogo dove tu sei. La realtà sugiale cambia. Ciò che conta è un luogo dove tu sei. Come dici, chi ti viene, non dici le stesse cose. Su quanto tu sei in un paese, due. Basta che tu ti metti così in punta di bedi e bedi a cento chilometri. E poi qui cambiano le cose. Basta che tu fai 50 metri e cambia il luogo, il mare, il gelo. E sta realizzato qui. E' vero che la lingua ci vuole rispettarla. Ma sta realizzato qui. E' questo che fa l'uomo. E' questo che fa che l'uomo si sente di qui. E quando si sente di qui? Che lo dica in un corso. Che lo dica in un'altra lingua. E' mica questa è la primura. E' che lo risenti così. E' che lo dica così. Certo. Mi pare che mi condisco. Chi sia... Di confidenza. Non di confidenza. Di... Di modernità di la lingua. La lingua è sicuramente l'arbaccio e tutte. E penso che quelli che parlano. Quando parlano di la lingua. Che gli viene in referenza all'arbaccio o garretto. E a tutti i affari di chi. Penso che le... Che gli soggetti che volano usare la lingua che corsa. Oggi la lingua che si riprende. Né mica si sapesse. Se è bianco, blanco o un altro affare. E chi la lingua che si riprende oggi. Quando si vuole parlare a corso. O una lingua che prende una parola e parla un'altra. Chi ti riprende una forma sentata. Che parla un'altra. E chi tanto viene sbagliata. E questo è il problema. Allora dopo si sapesse se si parla a corso. o un francesido. E mica la questione si sapesse se è un francesido. E che quando tu parli un francesido. Metti insieme. Due logiche sintattiche. Che non sono mica gli stessi. E che ti portano alla confusione. E questa è la questione. E mica si sapesse se è pura o mica pura. Che vuole dire una lingua pura. Non vuole dire nulla. Perché non esiste mica una lingua pura. Esiste una lingua prigisa. Logica. Che dice prigisa. E poi esiste una lingua che non dice più nulla. Perché quelli che la rubano. Non parlano parole e forme. Non parlano più. Che ci ha fatto? Che ci ha fatto? Che ci ha fatto secondo te? Per rimettare la lingua. Quindi sopra la loro assoluta. In questo popolo. Perché questo popolo possa continuare. Allora viro. Esprimare la lingua. E mica sempre. Esso. Esprimare la lingua. Dice. A nostalgia del Passani. Dice. Da rimanio. Se io parlo del corso. E siamo tranquilli. Ma mettem mica. Quando si parla del corso. Da rimanio. O si mettem mica. ma in causa di questo che tu puoi essere domani il lato lingua, che è il suo modo di mettere a livello, la lingua e la situazione generale, il mondo. No, stai sento già una risposta, è facile, puoi dire che ci vuole parlare questa lingua, perché finchè... Chi vuole parlare? Chi vuole parlare? Chi so, chi vuole parlare? Non mi dico chi vuole parlare questa lingua, no, un poese, una lingua, per dire un mondo moderno, che è stata l'opera oggi per dire la realtà di un mondo, la realtà di una vita di ogni giorno. No, manco la modernità, la realtà di oggi, di stamani, di stasera, di domani e di domani. Invece che il corso non si dovrà più per dire la vita di stamani, di stasera, di domani e da qui a 50 anni. E questa è la questione. E chi vuole parlare del corso si parla di 50 anni fa, e non è di 50 anni bene. Senti anni che viene, non mi rispondi mica. No, ma no. Chi vuole parlare di oggi, oggi? Lasciamo guardare un'altra, ma chi ci vuole parlare? Chi vuole parlare? Chi vuole parlare? A me ci vuole parlare, a me faccio pensare. Ci vuole parlare, Aspetta, ci vuole mettere i nomi di estretti, ci vuole mettere i nomi di estretti in corso francese, mettere i paesi in corso francese. Chi vuole parlare? Chi vuole parlare? Chi vuole parlare? E se tu ci trovavi a un posto preciso, a dire, o, ormangantò, che è la prima decisione, che tu hai segnato, per dirgli, ecco qua, è un primo escaletto, perché la lingua gossa si metta in piazza a pagamento, parlapportoso o d'ampo. Parliamo mica, non ci abbiamo capito. Chi sarebbe, secondo te, su primo escaletto, accogliere oggi? E' quello che dice io è che non esiste nessuna persona oggi capace di dire, stabilisco questa legge qui e io dico mi chiamo Pedro o mi chiamo Paolo o mi chiamo Domenico Antone e ci vuole che ognuno si vede questa lingua, questa regola, non esiste mica questa, scusami ma hai detto che ci vuole dire se ti avessi segnato, io ti dico non esiste mica questa, non esiste una sola cosa, una sola, e sta senza ciò che ti dico. Esiste aurentà di gorsi, di parlà, a so lingua, a ogni momento di vita. Tutto ciò che è, no ma scusami, aspetta, scusami una seconda, tutto ciò che è d'attualità si face in francese, tutto ciò che è di passato si face in corso. E qui ha un'importanza anche all'economia, tutto ciò che si face in corso, ma questo di nuovo l'ho trovato. Dunque oggi abbiamo gustato che la lingua gossa si trova male, e il popolo gossa, l'economia gossa, va di baggio. Dunque, pongo una questione, di dire, la gima, di una scala, non ci si può mettere quella in 4, 3, 7, ciò è arrivato piano piano, e di dire, una scala è la pressa da un altro, e allora faccio questo, e dopo ne va ragionando. Allora, ti pongo una questione, che è, sì, non a dittatore, in maniera di dittatore, ma di dire, e se hai assegnato qualcosa, cominciarei a dire, e cosa faccio a fare per cogliere il primo scaletto? In delle evoluzioni, il primo scaletto secondo te, in due euro? È bella facile la risposta, è facile, è facile, è facile, ma prima di darla, aiuta, aiuta a pigliare due paragoni. Ma darla risposta? Lei ha già dato la risposta. Il primo paragono è in Irlanda, in Irlanda, l'irlandese è lingua ufficiale, ha imparato delle scure, e non parla più irlandese. In Catalogna, è una lingua ufficiale, ma i catalani parlano catalano. E io, dec'anni fa, quando gli ho mandato una scuola in Spagna, in Barcelona, è giunto un cittadino che era stato malato, un certificato medico, stabilito in catalano, mica in spagnolo, mica in castigliano, in catalano. Perché? Perché i catalani volano parlare il catalano, invece che gli irlandesi parlano inglese, non parlano mica l'irlandese. Allora, oggi è che posso dire, il primo scaletto, pura ria esse. La lingua corsa, ci vuole che la sia una lingua ufficiale. Buona, è detto, ci vuole, adesso è una lingua. Lasciamo ancora le questioni tecniche di Isabel, quando si traduce, è stata traduce, è un bastiaccio, un sartinese, ma ci vuole che la sia una lingua ufficiale. Ma ti dico subito, che la sia una lingua ufficiale, che la sia imparata alle scuole, non ne risponde mica la questione, perché adesso la questione, adesso la risposta è, se i corsi volano parlare la lingua, non li può parlare di parlare la lingua. e se i corsi volano moltiendeu mourni, papà e mamà, io fanno girare la televisione. Quando ho parlato della mia presa di conscienza per rapporto ai miei figli, ho detto che c'è stata una volontà che il popolo, certo non mi ha avuto, ma non è mica così. Non è mica così, ma dopo Gesù c'ho la pelle che io sono stato arrivato in un paese, ho avuto un paese o una mamma che parlavano, secondo un'amica niente, e ho avuto un po' di maestria di Aline, ma poi lei la trasmette. Ma che è la volontà di un paese o una mamma quando è un anno mica la maestria? Allora, un ciole mica tagliare la cotta non dicendo che non è che ha la volontà di aente, e se c'è un'ambianza, un'organizzazione accanto. Ma se c'è di nuovo un altro affare, ho avuto un'occhio che si è piazzato meglio con me, ma poi ho avuto un altro affatto, c'è un paese di mamma, con noi che ci sono con Marignano, non parla bene c'è da noi, che hanno parlato un corso ai figlioli, e che hanno lo mandato ai figlioli, rispondono in corso e parlano in corso. e quando li sono entrato alla materna, quando li sono entrato alla scuola francese, alla scuola nazionale, se tu vuoi andare a pronunciare, hai una relazione, perché erano soli e isolati. Parlami bene, parlami bene. Lingua viva, lingua gorsa, lingua viva. Finchè i gorsi non hanno mai questa volontà collettiva, tutti insieme, dire la nostra lingua, l'amo da mantenere, e beh, la lingua ha l'amore, perché è condannata dai gorsi stessi. Non è mica condannata dall'altro, è condannata da loro, perché questa volontà non la non è. non si tratta mica di dire quando è un scagno, se non mando due franchizi a 20 franchi, ma non si tratta di chi tra di noi. Trammette, no, ma io non voglio che venga, non voglio che venga. Sono stato in un paese a rimanere, sono stato in un altro paese, la settimana passata. I giovani, quelli di trent'anni, quelli di quarant'anni, tra di loro chi parlano? Parlano francese, non hanno mai avuto tra di loro la volontà di mantenere la sua lingua. Allora si può cercare ciò che si vuole, si può cercare tante scuse, e ci sono i motivi, è vero, i storici ufficiali di potenza economica, di potenza amministrativa, di potenza dell'armata, tutto ciò che si vuole è fortuna cosa. E i gorsi non hanno mai avuto la volontà collettiva, oggi, di mantenere la sua lingua. E la condanna, bene dall'altro, di sicuro, ma la prima condanna, bene dai gorsi stessi. Non c'è mica chi si ha questa questione, perché se la si chiesce questa questione si cerca sempre a dare la colpa all'altro, e mai, 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 mai i gorsi non si dicono ma forse chi è un suo colpevole di qualcosa. Ma questo li viene mai con dell'idea, pare sempre che li siano tutto bene dall'altro, e mai da elli, e per la miseria. Ci sono anche lì per qualcosa se la sparisce la sua lingua, per la Madonna. e mai, 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 mai. La sua lingua è una lingua. E il suo colpevole di una lingua. è un po' di nuovo. Grazie a tutti